Come tutti gli anni l'Europa Park presenta alcune novità ai suoi ospiti, tra l'altro apriremo per il 31 marzo con l'apertura della stagione 2007 una nuova attrazione sotto il quartiere greco, una nuova attrazione per tutta la famiglia interattiva molto molto bella che si chiamerà Aventura in Atlantide. Questa sarà già in offerta a partire dall'inizio della stagione 2007 e in pratica da luglio 2007 ci sarà un'altra novità che aspetta i nostri ospiti all'Europa Park e in pratica sarà un nuovo hotel. Ormai abbiamo tre alberghi a tema nel nostro hotel resort e da luglio ci sarà un nuovo hotel in stile di un monastero portoghese con tutte stanze a tema, con una birraria in cantina del monastero, con un giardino con le erbette dei monaci, in pratica tutto quello che si aspetta di un albergo dell'Europa Park. Chiaramente anche questa stagione sarà ricca di eventi particolari come Halloween o anche la nostra già abbastanza conosciuta apertura invernale con grande mercatino di Natale e tutto altro ancora che aspetta i nostri ospiti in quest'anno.